In questo video come attivare sulla Q3 F3 la visualizzazione nel menu del nostro MMI riguardante il livello dell'olio. Andiamo a cercare la centralità del nostro interesse che è sempre la famosissima 5F. Lasciamo che venga caricata ed entriamo in adattamento. In adattamento andiamo a ricercare la voce car per agevolarci un po' e selezioniamo la prima Function Adaptation Gen 2. Lasciamo sempre caricare. Dopodiché scrolliamo il menu. Non fatevi ingolosire come si direbbe da tutte le voci che vedete qui perché ahimè non tutte vi danno la possibilità di attivare qualcosa. Ok eccoci qua. Dobbiamo modificare la voce menu display o il level. Da non attivato andiamo a impostare attivato. Confermiamo con ok. Successivamente andiamo a cercare la voce menu display o il level over threshold high. Anche qui attivato. Per cui una e due voci attivate. Teniamo premuto il tasto verde. L'adattamento è stato gettato. Ora torniamo indietro e andiamo a fare un reset sull'MMI tramite la funzione reset o tramite il tasto di accensione. Se non erro questo non ce lo da. Sì reset è avvenuto con successo. Ok l'MMI dopo il comando dato via OBD11 si sta riavviando. Come vedete ho modificato anche il logo di avvio in Audi sport. Ok allora in questa dopo questa codifica in vettura diamogli il tempo. Impostazioni e service. Apparirà questa voce livello olio. Una volta attivato il menu dovremo avere un po di pazienza perché circa dopo 100-200 chilometri vedremo apparire per la prima volta l'indicazione appunto della quantità di olio presente nel motore. Tenete presente che su alcune MI19 si vede anche a motore acceso o in marcia. Ascendendo al menu vedete il livello. Sulle altre seguite le istruzioni. In questo caso a memoria ecco disponibile dopo circa due minuti. Il motore deve essere spento e alla temperatura di esercizio per cui così dovrebbe funzionare. Se vi funziona anche quando è acceso tanto di guadagnato. Se vi è stato utile seguite il canale e mettete un bel mi piace al video. Ciao ragazzi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.